Allora, fresca fresca, questa è l'edizione di marzo di Millionaire dove c'è un'intervista di tre pagine che ci hanno fatto. Voglio ringraziare la redazione per averci sicuramente intervistato e mi pongo un'autodomanda. Ma perché Millionaire ha dedicato così tanto spazio ai video animati? Come abbiamo raccontato nell'intervista, i video possono essere un elemento determinante nel percorso di acquisto di un cliente e in particolare i video animati sono fenomenali se parliamo di un business con prodotto o servizio complessi. Il nostro è un approccio molto diverso rispetto ai classici videomakers perché prima di tutto siamo dei marketers, facciamo analisi di business, impostiamo la strategia e utilizziamo lo strumento animazione per portare un risultato concreto che vuol dire aumentare le vendite, aumentare il numero di contatti caldi ed accorciare il ciclo di vendita. Se sei curioso di capire come realizziamo i video animati, seguici sulla nostra pagina di Facebook perché ogni settimana pubblichiamo degli aggiornamenti con case studio e interviste su tutti i lavori che facciamo.